Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Quando vedete questo video io probabilmente sarò già ad Amsterdam a fare vlog su macchiarmela e sciallarmi e vedere bei post insomma Cosa voglio dire oggi? Farò un raduno? Sì, farò un raduno ad Amsterdam per drogarci tutti insieme No, non è vero ma sarebbe interessante Non farò un raduno, però praticamente siccome non mi sentivo in grado di fare un raduno Sono stato invitato, madonna, a questo telefono Sono stato invitato dagli ragazzi appunto che conosco Cioè praticamente di persone che ci sto tutti i giorni Mi hanno chiesto se potevo partecipare a un loro evento Io non mi sentivo in grado, cioè come ospite Ospite per modo di dire, cioè nel senso io non farò un cazzo, starò a rilisciarlo Sono stato invitato a questo evento Siccome non mi sentivo in grado di fare un raduno perché veramente siamo forse troppo pochi Cioè nel senso non siamo ancora Me lo chiedete in tanti, e questo devo dire la verità E mi chiedete molte volte dove sono, cioè vorrei vederti, vorrei far una foto con te Ok, e quindi non mi sentivo in grado di fare un raduno perché eravamo, cioè eravamo troppo pochi Quindi praticamente mi sono accollato grazie appunto a questo invito che mi hanno fatto A un evento, appunto un evento che si terrà il 17 settembre allo skate park di Prato in Toscana Per chi non conoscesse Prato è in Toscana, comunque vicino a Firenze Quindi niente, farò, sarò ospite in questo evento allo skate park di Prato Nella serata appunto, nel pomeriggio e nella serata perché è un evento che durerà più ore Ci saranno tutte le discipline possibili underground se vogliamo Balli, artisti di strada appunto Giochi di magia, cantanti emergenti, rap Ci saranno anche degli ospiti interessanti che canteranno Quindi vi invito veramente ad esserci se volete vedere me e se volete appunto ascoltare un po' di rap underground Perché alla fine l'entrata è completamente gratuita raga Cioè, veramente è completamente gratuita, ripeto Allo skate park di Prato ci sarò io il 17 settembre Se volete vedermi, non è un raduno, non è un raduno però volendo potrebbe anche esserlo Perché appunto, se volete venire, io ci sono, cioè stavo con voi Cioè, chiacchierata, foto, quello che vi pare insomma Ci sarà un link in descrizione con il link dell'evento Vi invito magari a cliccare partecipo se parteciperete E niente, cliccate mi raccomando partecipo se parteciperete Perché appunto è per vedere quante persone ci saranno Cliccate partecipo, l'evento è stato creato da pochissimo Vi invito appunto a cliccare partecipo Io vi consiglio di farci un salto, se siete della zona o comunque fateci un salto Perché alla fine è qualcosa di un po' diverso Eventi underground ce ne sono molto pochi E niente, è uno skate park Quindi insomma ci si può divertire veramente tanto Vi invito niente, io lascerò un like, un commento passato ovviamente dai miei social per queste cose qua Io adesso sarò ad Amsterdam quindi non ci sarò Però in ogni caso cliccate partecipo alla pagina dell'evento Alla pagina dell'evento, cliccate partecipo per sapere appunto quanti siete Io vi invito a partecipare, fate voi poi Niente raga, al prossimo video Ciao